in diretta da sanremo uno degli emergenti del festival e con noi zibba ciao zibba eccoci buongiorno allora sei in finale te l'aspettavi però me l'aspettavo no ma sono felice di esserci davvero molto a quante aspettative hai sulla vittoria finale ma non mi pongo il problema sinceramente talmente tutti bravi giovani quest'anno che la vittoria non non sarà comunque di uno solo chiunque arriva in finale porterà con sé un bagaglio di cose bellissime insomma di piccole vittorie anche essere in radio con voi per me una grande vittoria sudata tanti anni che aspetto capisci di poter parlare con te tutte queste cose capitano proprio perché siamo qui al festival e perché forse ce la stiamo giocando nel modo giusto secondo me vincere non è importante perché tanto si vince tutti i giorni mi piace da quanto tempo è che scrivi canzoni tu zibba tanto per capire un po che lo faccio perché scrivo per me saranno una dozzina d'anni ovviamente prima scrivevo magari in modo più distratto giusto per sfogo sono sempre stato un sostenitore del fatto che scrivere comunque faccia bene addirittura parlando con un amico analista un giorno mi raccontava del fatto che esiste una malattia che è psicologica ovviamente che è soltanto di quelli che non scrivono cioè quelli che tengono dentro le cose e proprio materialmente non le mettono giù su un foglio ed è una spiccola sindrome psicologica che non ricordo come si chiama quindi sono sempre ho sempre scritto molto e scrivo molto tutti i giorni anche tu non ce l'hai insomma no questa malattia no ne ho tantissime altre questa l'ho evitata in bocca al lupo zibba grazie mille grazie per lo spazio ciao ciao